Ma se ti dicessi che la panca inclinata non è un esercizio per le fibre alte del pettorale? Ok, so già che qualcuno mi è svenuto sul pavimento, non ti preoccupare, in questo video ti vado a spiegare il tutto e ti vado poi eventualmente anche a spiegare come andare a utilizzare la panca inclinata. Ciao, se sei nuovo qui o sei nuovo qui, il mio nome è Eduardo Baldini, questo è il mio canale e sono una delle pochissime persone a parlare di allenamento non per sentito dire perché qualcosa mi piaccia o perché sia sempre fatto così, a differenza della stragrande maggioranza delle persone che tanto so che segui su Instagram, su YouTube, su TikTok e così via, noi qui non andiamo a parlare per sentito dire noi qui andiamo a vedere ciò che gli studi ci dicono, ciò che la biomeccanica ci dice ma attenzione, comprendendolo, non come la maggior parte delle persone che dice che si basa sugli studi scientifici e poi vi dice delle cazzate che non hanno senso, no, noi qui andiamo a vedere cosa ci dicono realmente che andiamo ad applicare nell'allenamento di tutti i giorni. Ora, ricordiamoci di nuovo come è composto per andare ad affrontare questa tematica il petto, il petto ha tre andamenti delle fibre differenti, abbiamo delle fibre alte il cosiddetto petto alto dove le fibre corrono dal basso verso l'alto abbiamo delle fibre centrali dove le fibre corrono praticamente più o meno in modo orizzontale e poi abbiamo delle fibre basse dove praticamente abbiamo un andamento dall'alto verso il basso e nel corso dei 2800 video che ho sul canale abbiamo visto come andare a massimizzare l'allenamento di tutti questi punti e però cosa succede? Succede che ci sono delle persone che mi dicono edo guarda io ho la panca inclinata nel mio programma di allenamento con il mio anubri, con il bilanciero, con la smith machine e però io queste fibre alte del pettorale, questo petto alto ce l'ho sottosviluppato, non vuole crescere e alcune volte cosa succede? Succede che la persona che ha magari la panca inclinata non gli cresce il petto alto, chiamiamo petto alto ma sappiamo che sono le fibre alte del pettorale e molto spesso vanno a commettere un ulteriore errore ovvero dire allora probabilmente sto facendo troppe poche serie vado ad incrementare il numero di serie perché sarà un problema di volume quando in realtà praticamente abbiamo visto come non sia praticamente mai un problema di volume quando un muscolo non cresce o c'è un problema di intensità o c'è un problema di selezione dell'esercizio o di esecuzione dell'esercizio ora prima di andarti a spiegare perché, come andarlo ad utilizzare e tutta la verità, nient'altro che la verità ricordo che se una volta finito di vedere il video vorrai smettere di allenarti a caso seguendo le schedine sfigate che ti danno in palestra che trovi online o magari con degli programmi abbastanza buoni che magari ti sei fatto da solo ascoltando le informazioni che ti dico nei video però poi vedi che comunque non stai massimizzando i risultati ho un percorso chiamato Ascienza Dura che ad oggi conta ben 32 programmi di allenamento veramente sono in continuo aggiornamento lo scorso mese ne è uscito un altro dove ciascun programma dura minimo 12 settimane all'interno praticamente di Ascienza Dura ad oggi sono più di 3 anni di programmazione di allenamento sia per la palestra che per la casa ci sono programmi di specializzazione per il petto o per altri gruppi muscolari che però ti fanno allenare tutto il resto del corpo come per esempio pettorali duri e ogni programma ti dà il numero di serie, il numero di ripetizioni, il tempo di recupero ogni programma dura praticamente decine e decine di pagine che ti fanno progredire di settimana in settimana ogni esercizio ha un video tutorial dedicato a cui puoi arrivare grazie a un link posto sotto all'esercizio e comunicazione di servizio tutti i membri hanno ricevuto due nuovi programmi di allenamento che però per chi non fosse ancora all'interno è possibile prendere anche singolarmente se uno vuole uno è chiamato Avanzato Duro Volume 6.0 che è un programma bilanciato per tutto il corpo dai 3 fino ai 5 giorni di allenamento a settimana e poi è anche uscito il programma No Macchinari Duro Volume 3.0 anch'esso fattibile dai 3 fino ai 5 giorni di allenamento a settimana è un programma quest'ultimo perfetto se ti alleni a casa con un manubrio, un bilanciere una panca e una sbarra delle trazioni se vuoi smettere di fare le cose a caso ricordo che è anche possibile prendere un singolo programma di allenamento ti lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti vai a scegliere il migliore per te allora dove sta la verità? perché ho detto la panca inclinata non è un esercizio per il petto alto? perché molte persone pensano che andando a mettere la panca inclinata l'esercizio diventerà inautomatico per le fibre alte del pettorale purtroppo non funziona in questo modo qua affinché una panca inclinata diventi le fibre alte del pettorale ci deve essere anche un movimento corretto del braccio senza il movimento corretto del braccio e quindi per esempio se tieni completamente gomiti aperti non avremo il massimo stimolo delle fibre alte del pettorale chiaramente attenzione non è che non lavorerà mai ma lavorerà meno rispetto ad un esercizio come una panca inclinata fatta nel modo giusto focus fibre alte del pettorale vogliamo infatti un esercizio che sia un mix fra flessione e adduzione con una panca più o meno fra i 30 e i 45 gradi e un'apertura del gomito più o meno sui 45 gradi e nel momento di risalita vogliamo pensare di avvicinare il bicipite verso il mento che sarà in questa posizione qua quindi vicino alla parte alta del pettorale questo è fondamentale perché altrimenti non metterai enfasi sulle fibre alte del pettorale e il solo fatto di aver messo una panca inclinata non farà diventare l'esercizio maggiormente petto alto poi è vero le fibre basse del pettorale su una panca inclinata verranno stimolate meno per un discorso di gravità ma se vuoi mettere la massima enfasi sulle fibre alte del pettorale come ho detto panca inclinata sui 30-45 gradi e gomito chiuso più o meno sui 45 gradi e pensi di avvicinare il bicipite verso il mento dopodiché però c'è un'altra cosa a cui stare attenti ovvero come ho già spiegato in altri video non vuoi andare a portare la stessa meccanica che utilizzi in una panca piana nella panca inclinata cosa significa questo? significa che tu nella panca inclinata vuoi tenere la schiena il più aderente possibile alla panca inclinata non vuoi andare ad enfatizzare l'arco perché questo cosa andrà a fare? andrà in base a quanto andrai ad inarcare ad annullare il fatto di aver utilizzato una panca inclinata quindi trasformerai di nuovo l'esercizio in un esercizio per le fibre centrali del pettorale o quantomeno bilanciato invece che maggiormente fibre alte e quindi oltre a tutte le cose che abbiamo detto mantieni anche la schiena neutra sempre ben aderente allo schienale della panca e allora lì sì che abbiamo una panca inclinata come si deve focus fibre alte del pettorale poi attenzione se una persona ha a disposizione una buona C-Espress per le fibre alte del pettorale probabilmente quella è comunque una miglior scelta perché è un esercizio molto più stabile e che ci dà anche la possibilità di avere tensione in momento di contrazione chiaramente deve essere una C-Espress convergente e quindi ci permette di avere le mani più vicine in contrazione però ecco tutto quello che noi abbiamo detto quindi tutte le impostazioni della panca inclinata ricordiamoci che valgono sia per i manubri sia anche con il bilanciere sia la Smith Machine e abbiamo visto come probabilmente se dovessimo andare a scegliere fra queste tre e avessimo alla disposizione tutte e tre la Smith Machine è sicuramente un'opzione da prendere in considerazione perché è molto più stabile delle precedenti se però ti alleni a casa e hai solo un bilanciere o gli manubri assolutamente fanno benissimo sono ottimi esercizi però mi raccomando rispetto a tutte le cose che abbiamo visto in questo video qua detto ciò adesso hai compreso di che livello di informazioni stiamo parlando? hai compreso che è necessario andare a fare le cose seriamente c'è il pacchetto chiamato a Scienza Dura che ad oggi conta ben 32 programmi di allenamento tutti i programmi futuri che usciranno tu li avrai inclusi gratuitamente accedendo da Scienza Dura così come tutti i membri hanno ricevuto i due nuovi programmi di allenamento come dicevo non sono schedine sfigate ma sono percorsi che ti fanno proghedire di settimana in settimana ti danno il numero di serie, il numero di ripetizioni, il tempo di recupero ogni esercizio alla propria spiegazione e a un link che ti riporta ad un video tutorial inedito dove potrai andare a consultare per tutte le volte che vuoi perché l'accesso a vita, tutti gli aggiornamenti sono gratuiti a vita come andare ad eseguire l'esercizio nel modo giusto ci sono programmi per la palestra, per la casa come per esempio il nuovissimo No Macchinari Duro volume 3.0 che è un programma bilanciato e che è possibile prendere anche singolarmente va benissimo se hai i manubri o il bilanciere, una panca e la sbarra delle trazioni ci sono programmi bilanciati o programmi di specializzazione per una parte del corpo che però ti fanno allenare tutto il resto del corpo sia per la palestra che per la casa come per esempio il programma Vettorali Duri la pagina di presentazione la lascio giù in descrizione e nei commenti ricordando che anche è possibile andare a prendere un singolo programma di allenamento e poi valutare di fare l'upgrade pagando solo la differenza quindi veramente nessun rischio un programma singolo non costa niente e dura tre mesi oltre a ciò ricordo che è anche uscita la possibilità di avere un programma di allenamento personalizzato direttamente da me in base alle tue necessità e ti lascio la pagina di presentazione giù in descrizione e nei commenti o in alternativa ricordo che è possibile accedere alla Baldino Academy che è l'insieme di tutti i miei percorsi su alimentazione, allenamento e integrazione e ti prendi a scienza dura ma ti prendi anche tutte le altre guide che ho abbalanciato fino ad oggi su alimentazione, allenamento e integrazione quindi avrai dei piani alimentari per la massa per la definizione, tutti i calcoli già fatti per onnivori, vegani, vegetariani per ogni età e tutto avrai tutte le migliori marche di integrazione che consiglio i mix di integratori e come andare a utilizzare dal punto di vista scientifico e tutte le guide future che usciranno sulle avrete usate gratuitamente per qualsiasi domanda sui miei percorsi su come funzionassero se potessero fare per te scrivi tranquillamente ad Alessandro e mia assistente a questa mail qua o a questo numero sap qui è sempre disponibile per tutte le necessità e noi come sempre ci vediamo tutti c'è una luna sempre su questo canale ciao a tutti peace ciao a tutti